Hasta la vista ragazzi! Io sono Cyborgamer dal futuro e oggi ci troviamo in un nuovo episodio su Dragon Ball Z Kakarot! Rieccoci qua ragazzi con il nostro carissimo e potentissimo Goku Super Saiyan Full Power e oggi andremo a fare una nuova missione secondaria per quella stronza e inacidita di Baba che sembra essere più depressa del solito infatti come vedete lì dietro sta dicendo non ho alcuna voglia di ascoltare un'altra richiesta assurda senza che nessuno le abbia chiesto nulla raga infatti non ci siamo ancora avvicinati e già questa qui sta tutta depressa e inacidita quindi insomma dobbiamo capire che cosa sta accadendo ma prima di cominciare vi voglio un attimino ricordare di andarvi a recuperare se non l'avete visto lo scorso episodio in cui ragazzi siamo andati a fare questa missione secondaria per otto chiamata Amici per sempre in cui abbiamo aiutato otto e abbiamo fatto una grande scoperta sul nostro caro C16 che magari non vi aspettate quindi ragazzi se per caso non avete visto lo scorso episodio mi raccomando ad andarlo a guardare o siete terminati! detto questo adesso possiamo assolutamente concentrarci su questa missione di oggi allora il riepilogo ci dice forse la veggente baba sa dove trovare un buon partner per allenarti vai a parlare con lei quindi raga da quello che ho capito dobbiamo parlare con lei per farci dire un altro partner con cui allenarci prima del self game e chissà chi sarà questo nuovo personaggio o magari un personaggio che conosciamo già con cui ci potremo allenare questo voglio capire perché qui non viene detto e quindi la cosa almeno qui è un po' misteriosa quindi cercheremo di vedere e di capire chi è questo personaggio magari lo conosciamo già ricompensa e completamento 136.715 punti esperienza due medaglie di e una super rivista per adulti pazzesca quindi ragazzi abbiamo la solita esperienza qualche medaglia e appunto un dono a questo punto possiamo tranquillamente andare da baba che sta fluttuando vicino a questo enorme edificio qui a papaya town raga questa è papaya town quindi non so che ci faccia qui baba sospesa in aria sulla sua sfera quindi facciamo parla oggi immagino sarà acidissima vediamo ciao vecchia baba oddio ragazzi qua rischiamo che questa cara vecchia baba si incazza perché appunto Goku l'ha chiamata vecchia e quindi si inasprisce e si inacidisce ancora di più quindi cerchiamo di non farlo vediamo eh? eh tu aspetta un momento sei tu Goku? oh ragazzi l'ha riconosciuto almeno mamma mia ok sto cavolo di fatto dei capelli biondi sta dando fastidio a molti personaggi cioè nel senso che non lo riescono a riconoscere subito già sono un po' diverso ma sono sempre Goku l'hai capito in fretta ecco raga mi sa che è stato l'unico personaggio che l'ha capito in fretta mamma mia avanti oh 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 non è l'unica cosa che ho capito so perché sei qui ok ragazzi attenzione già lo sa quindi lei ci dirà adesso immagino il personaggio con cui andremo ad allenarci vediamo un po' davvero? vuoi chiedermi di trovare qualcuno di forte vero? mamma mia ragazzi immagino che abbia già azzeccato Baba sa tutto lei sa tutto ok ragazzi in mezzo ai mondi questo è il titolo della missione molto bello livello consigliato 47 e ci siamo quindi la descrizione l'abbiamo letta le ricompense anche chiedere a Baba informazioni su avversari potenti facciamo sì perché interessa anche a me tutto questo raga in mezzo ai mondi ok titolo che non mi aspettavo sinceramente cerchiamo di capire allora come lo sai? sai anche leggere il pensiero? oddio ragazzi mamma mia vediamo vediamo che cosa risponde non mi serve leggerti il pensiero per sapere cosa hai in mente oh ok perché lo conosce benissimo immagino sia questo appunto quello che vuole dire davvero? allora sai dirmi se ci sono guerrieri potenti in giro? ragazzi speriamo di sì così magari conosciamo qualche altro personaggio o magari Baba ci dirà il nome di un personaggio che già conosciamo già dei guerrieri Z quindi cerchiamo di capire e di scoprire chi è questo personaggio che ci nominerà insomma avanti quanti soldi hai? oddio ragazzi come soldi? questa non me l'aspettavo quindi Baba ci chiede dei soldi per l'informazione vediamo ecco mi sa che Goku non ne ha raga vediamo ho capito cosa ha capito Baba che non ne ha Goku non posso rifiutarti un favore per questa volta è gratis ok ragazzi allora così ci siamo oggi non è tanto inasprita e inacidita Baba diciamo che è abbastanza tranquilla quindi ci fa piacere incredibile c'è gente che spende una fortuna per avere un mio oracolo e già ragazzi invece lei lo fa gratis a Goku ok stavolta è gratis poi le prossime volte sarà a pagamento da quello che ho capito ok ragazzi vediamo che cosa succede attenzione vediamo ecco ci siamo vediamo ragazzi attenzione l'ha trovato immagino le persone che cerchi sono qui ok dove? dici Baba dove? dove sono? la posizione degli avversari potenti è stata segnata sulla tua mappa perfetto raga e ci andiamo subitissimo ovviamente voglio affrontare questi avversari potenti avanti ottimo grazie infinite vecchia Baba ok non si è incazzata per niente del fatto che l'ha chiamata vecchia Baba ok avanti aspetta perché? cosa dobbiamo aspettare? questo avversario non è solo forte ma probabilmente anche malvagio oddio ragazzi e chi sarà mai? cioè non abbiamo portato nessuno in vita di personaggi quindi chi potrebbe essere questo personaggio? perché di solito quando appaiono delle minacce le facciamo comparire noi facendo tornare in vita vecchi personaggi che abbiamo già battuto e quello lo sappiamo in questo caso invece chi potrebbe essere questo avversario malvagio che sta sulla terra così libero? cerchiamo di capire avanti sono sicura che c'è una taglia per la sua cattura oddio ragazzi ma chi sarà? un criminale? un ladro? qualcosa del genere? qualcuno di davvero potente? non lo so avanti se vincerai torna da me prenderò i soldi della taglia come pagamento ah ecco che c'era il trucco raga quindi appunto non l'abbiamo pagata per l'oracolo per il suo oracolo però appunto se sconfiggiamo questo personaggio e ci prendiamo la sua taglia sulla testa appunto usiamo quella come pagamento per Baba incredibile incredibile allora non è gratis ecco ragazzi anche Goku se ne è accorto lo ha capito io non lavoro mai gratis mannaggia Baba raga mannaggia a lei quindi non è tanto tranquilla oggi sempre in acidita ecco ho capito allora vado ok ragazzi quindi finisce appunto il dialogo e cerchiamo di capire adesso che cosa accade in mezzo ai mondi sconfiggi il nemico impazzito usando Goku come il nemico impazzito oddio ragazzi abbiamo sulla mappa un sacco di segnalini da quello che ho visto si raga ci sono un sacco di segnalini blu tipo qui in mezzo ai mondi come vedete qui raga ce n'è appunto un altro e qui ce n'è un altro ci sono tre segnalini celesti blu insomma che stanno ad indicare i vari punti di questa missione secondaria e credo che ci dobbiamo andare in questi punti e andare a sconfiggere questo avversario impazzito da quello che ho capito a questo punto ragazzi iniziamo ad andare in ognuno di questi punti quindi ci mettiamo il segnalino e partiamo immediatamente con Goku mamma mia ragazzi non mi aspettavo che la missione andasse in questa maniera che dovessimo sconfiggere un nemico pazzo non so davvero chi aspettarmi non so ragazzi se voi lo sapete già se avete fatto già la missione già lo sapete ma io no quindi non so che maledetto nemico aspettarmi vediamo un po' qui raga credo ci sia qualcuno si attenzione ragazzi chi sono chi sono sti tizi ah oddio ragazzi sono dei semplici soldati di Freezer io che mi aspettavo chissà quale personaggio chissà quali personaggi oh mio dio sono dei soldati di Freezer semplicissimi con un design un po' diverso dal solito ce ne sono due rossi e uno che invece assomiglia appunto ad un Saiyan quindi raga stiamo attenti vediamo un po' andiamo ad attaccarlo vai vai Goku attenzione a quel maledetto Kamea mi ha guidata raga e li becchiamo ne becchiamo anche più di uno fantastico stiamo attenti raga cerchiamo di eliminare tutti quanti che sono tre appena raga non sono neanche tantissimi quindi facciamo super no non me lo fanno fare raga è un maledetto attenzione vai vai fai l'attacco vai super Kamea mi ha ragazzi becchiamolo perfetto stiamo attenti ok ci pariamo perché quest'altro maledetto ovviamente ci spara mentre l'altro ci attacca benissimo così combattono i soldati di Freezer raga una cosa pazzesca non è così che si combatte senza onore ok leviamoci da qua ok raga facciamo super Kamea mea lo becchiamo di brutto quasi distrutto raga quasi distrutto ok possiamo fare anche la scarica volendo quindi la facciamo raga ne abbiamo la possibilità quindi facciamo la scarica attenzione ok schivata dai forza forza Goku datti da fare raga andiamo con la scarica andiamo a distruggere questo soldato di Freezer attenzione vai vai Goku distrutto mamma mia ragazzi vado 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 a distruggerlo e no ok pam fatto raga facciamo super Kamea mea la facciamo a raffica e lo distruggiamo attenzione ragazzi guardate che roba guardate che roba super mossa finale oh mio dio non capitava da parecchio esperienza ottenuta 12.771 grado S però li abbiamo battuti alla grande ragazzi mamma mia mamma mia ok ritorniamo alla normalità ma ci sono ancora altri due punti dove andare adesso ovviamente ci dirigiamo verso il secondo punto dove immagino che troveremo altri soldati di Freezer raga non mi immagino nulla d'assurdo certe volte io vado avanti con l'immaginazione ma poi rimaniamo delusi dal gioco perché alla fine ci propongono sempre gli stessi nemici no io che mi aspettavo qualche nuovo androide qualcosa del genere qualcosa di fighissimo invece semplicemente soldati di Freezer eccoli qua ragazzi perfetto già in fila vediamo un po' ah stavolta tutti e tre dello stesso colore raga mamma mia mamma mia ok manca un po' di creatività ok raga stiamo attenti stiamo attenti vediamo un po' già ci attaccano super kamia mia mentre è bloccato lì ragazzi madonna la potenza di Goku cosa potranno mai farci questi soldati di Freezer raga di infimo livello praticamente anche se hanno la potenza di Goku raga distrutto già uno ok pam ti vengo da dietro faccio super kamia mia raga madonna ok ci fa lui l'attacco raga che maledetti però si copre una vicenda praticamente ok vado a ricaricarmi raga adesso ci dovremmo scatenare un attimo facciamo sfera Genki da My X proviamoci vediamo se lo becchiamo eh sì lo becchiamo distrutto raga madonna non c'è stata neanche l'esplosione rendetevi conto questo robot da dove è arrivato super kamia mia ragazzi no niente da fare questo robot da dove è arrivato non c'era non c'era raga oddio da dove cavolo è apparso da dove cavolo è apparso oh mio dio attenzione voglio distruggerlo con la sfera Genki Dama X siamo attenti raga ecco sempre i soliti attacchi energetici infimi sfera Genki Dama X raga ci proviamo vai prendilo beccalo distruggilo sì sì ragazzi fine distrutto con la sfera Genki Dama X esperienza ottenuta 11882 grado S fantastico e appunto il secondo gruppo di nemici se n'è andato è stato terminato raga adesso giriamoci un attimo eccola lì ragazzi su quell'isola c'è il terzo gruppo di nemici dopodichè immagino torneremo da Baba perché appunto dobbiamo distruggere questi nemici prenderci la taglia sulla testa e portare i soldi a Baba praticamente eccoci qua ragazzi ignoriamo tutti gli altri nemici e andiamo dai soldati di Freezer ecco stavolta di colore rosso e viola raga c'è una roba incredibile manca un po' di creatività e tra l'altro non ci sono neanche dei piccoli discorsi tra i personaggi zero proprio raga cioè tra Goku e questi nemici zero discorsi zero si inizia subito la battaglia come i muti oddio comunque raga andiamo subito da questo stronzo qui che ci sta attaccando ok vai 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 forza attenzione raga vai pam da dietro raga super Kamehameha lo becchiamo subitissimo distrutto già il primo raga siamo troppo troppo potenti mamma mia è apparso il robot raga non c'era il robot è apparso adesso oh mio dio Kamehameha guidata proviamoci lo becchiamo e lo distruggiamo raga fantastico ok adesso stiamo attenti a questi due maledetti ok attenzione sfera che chi dama x raga ci proviamo a beccarlo perché di solito si spostano beccato in pieno raga esplode tutto ma non è ancora finita ne son convinto attenzione ecco ci attacca l'altro raga si copre una vicenda questi maledetti Kamehameha guidata allora beccato è distrutto raga fantastico ok super Kamehameha mentre sei bloccato qua maledetto a te e andiamo di super raffica energetica quindi raga super raffica energetica che non abbiamo usato per niente vediamo se concludiamo così perfetto raga fine distrutti tutti quanti esperienza ottenuta 12.749 grado S e questo era l'ultimo gruppo di personaggi pazzi personaggi nemici insomma che Baba ci aveva detto più che divertimento dice Goku quindi raga dobbiamo tornare appunto credo da Baba vediamo un po' però non sono ancora del tutto soddisfatto in che senso Goku che vuoi dire non ti bastano questi nemici raga posso capirlo perché sono nemici di infimo livello due secondi si battono insomma per ora sarà meglio tornare dalla vecchia Baba ecco ragazzi quindi ci ritorniamo vediamo torna dalla vecchia Baba usando Goku perfetto raga quindi dobbiamo tornare in città eccoci qua ragazzi in città vediamo un po' Baba dice che fine avrà fatto quel seccatore di Goku raga ma è proprio una stronza io ve lo dico sempre che è una stronza ma forse voi non ci credete mamma mia cioè parla da dietro non ho mica tutto il tempo del mondo ok perfetto raga quindi abbiamo fatto il nostro dovere scendiamo in mezzo ai tavolini tra l'altro e gli ombrelloni parla oh vediamo ragazzi ok Baba è sempre qui non si è spostata di un millimetro Baba dice e così ce l'hai fatta esatto raga non c'era dubbio Goku in Super Saiyan full power vogliamo metterlo a confronto con quei infimi soldati di Freezer ma no dai già però ho ancora voglia di combattere eh ma non credo che Baba possa farci nulla almeno credo raga puoi sempre morire e andare all'altro mondo la potrai combattere quanto ti pare piace oddio ragazzi questo potrebbe essere un riferimento alla cosa che succederà tra un po' al Cell Game Goku appunto si sacrificherà per salvare la terra dall'esplosione di Cell e appunto rimarrà nell'aldilà proprio ad allenarsi e a scontrarsi con tanti personaggi sappiamo che quella parte non è canonica almeno nel manga non c'è il torneo dell'aldilà quindi è una cosa solamente dell'anime però io credo che Baba con questa frase è come se si stia riferendo al fatto che Goku poi quando si sacrificherà rimarrà nell'aldilà appunto ad allenarsi e a scontrarsi contro vari nemici non lo so ragazzi ho visto questo collegamento e ve l'ho voluto dire avanti sì sarebbe fantastico ecco già a lui ragazzi piace molto ecco perché poi rimarrà per tanti tanti anni là dentro nell'aldilà intendo ma il cibo qui è migliore inoltre Kiki si arrabbierebbe molto se morissi quindi è meglio che resti qui eh però succederà comunque caro Goku purtroppo succederà avanti so che è superfluo dirlo ma sei veramente strano raga parla lei che è la prima strana la prima stronza che si comporta stranamente con Goku e con gli altri personaggi quindi proprio lei dovrebbe stare zitta che è meglio perché è la prima cattiva qui non cattiva ai livelli dei grandi nemici di Dragon Ball ma comunque stronza ecco si comporta male questo intendo però forse sei anche il salvatore di cui questo mondo ha bisogno beh su questo raga non diamo torto a Baba assolutamente è lui il supereroe ecco della situazione salva sempre tutti quanti anche se lui non vuole essere mai chiamato salvatore o eroe insomma lui lo fa perché gli piace combattere contro nemici sempre più forti avanti ok ragazzi storia completata ce l'abbiamo fatta è stata davvero carina devo dire ok ricompense storia 136.715 punti esperienza due medaglie di e una super rivista per adulti pazzesca avanti e ci becchiamo le ricompense raga perfetto ok raga questa non me l'aspettavo emblema anima di bronzo di Baba perfetto sinceramente non me lo aspettavo però ragazzi intanto lo abbiamo sbloccato quindi avanti ok aumento di livello Goku ha raggiunto il livello 48 perfetto ragazzi grazie all'esperienza ricevuta da questa missione secondaria abbiamo raggiunto il livello 48 quindi piano piano stiamo salendo quindi ragazzi oggi siamo andati a fare questa fantastica missione secondaria per Baba chiamata in mezzo ai mondi ovviamente ragazzi mi raccomando a farmi sapere la vostra su tutto ciò che avete visto in questo episodio fatemi sapere se la missione secondaria di Baba vi è piaciuta e fatemi sapere se vi sono piaciute anche le tre battaglie contro i soldati di Freezer quindi ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia anche un po' divertito se volete ragazzi lasciate un like condividete iscrivetevi se non siete iscritti e ricordatevi sempre che io tornerò grazie a tutti Grazie per la visione!